Anche da casa puoi scegliere il tuo futuro. Ciao ragazzi, sono Michela e frequento il corso di laurea magistrale in chimica. Finite le scuole superiori, decisi di iscrivermi all'insubria perché trovai l'offerta formativa molto interessante e infatti, anche tuttora, la varietà dei corsi di studio inerenti alla chimica danno la possibilità di soddisfare i diversi interessi di noi studenti, offrendo quindi la possibilità di crearci il nostro personale profilo professionale. Un altro motivo per cui optai per questo Ateneo fu che trovai da subito un ambiente molto accogliente e, col passare degli anni, posso sicuramente confermare che questo è uno dei tanti punti di forza di questa università. Noi studenti non siamo infatti mai lasciati da soli e la disponibilità dei docenti è tale da permettere di avere sempre un confronto diretto. Ora che sono quasi giunta al termine di questo percorso, posso confermare di aver trovato un posto che mi ha sempre fatto sentire a mio agio e che mi ha fatto crescere, dandomi delle basi solide e delle conoscenze su cui costruire il mio futuro. Ho trovato un posto in cui ci sono docenti che sono stati fonte di ispirazione e che mi hanno fatto appassionare sempre di più al mondo della chimica.